Io ho un rapporto che è di contenzioso quotidiano, a volte riesco a portare a casa, altre volte no, ma poi mi arrabbio, ho visto e considerato che so che gli alluvionati di questo inverno dell'alluvione con oltre 300 comuni avrebbero bisogno di 500 milioni di euro, poi leggo che si danno 450 milioni di euro per il Salva Roma e sembra che qualcosa non funzioni e quindi. E i Veneti? Come la vedono questa capitale? Beh i Veneti molto male, molto male e infatti il fatto di trascurare questo sentimento a livello Veneto, di non pensare che i Veneti comunque sono persone che conoscono il mondo, hanno internazionalizzato le loro imprese, hanno rapporti con il mondo intero e fan capire che l'ufficio complicazioni e affari semplici non ci va bene. Se dovesse nascere questa nuova, non lo so, Repubblica, questo nuovo Stato, cioè come io? Ma guardi io non sono l'ideologo dell'indipendenza, non sono neanche il fautore di questo processo, mi trovo ad essere il governatore in un momento nel quale il popolo ci chiede questo. Credo che l'indipendenza sia assolutamente un bel progetto su quale bisogna ragionarci, bisogna farlo con serietà, in modo tale che il confronto giuridico sia democratico e pacifico. Quindi anche sotto il profilo economico, diciamo il Veneto, guarda tu verso la Mitteleuropa, Europa? Ma c'è già di fatto in Mitteleuropa, c'è già con i rapporti commerciali, con i rapporti in generale, anche identitariamente Mitteleuropa, noi avevamo il catastro austriaco, tanto per dire. E' di una Repubblica Veneta che ci ha portato un sacco di cultura in questo senso. Direi che è fondamentale vedere questi progetti non come la volontà di essere ancora più egoisti, ma la volontà anche di fare in modo che il tuo popolo abbia risposta ai quesiti che ti dà.